Un saluto in studio e a chi ci segue da casa. Oggi vorrei farvi vedere un sito che vi permetterà di fare una bella indagine a caccia del paranormale delle pseudoscienze. Andiamo subito a guardarlo. Partiamo come sempre dalla nostra pagina Facebook e il sito è quello del CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, fondato ormai nel 1989 e vi permetterà di scoprire quali notizie sono reali, quali non lo sono, scoprire le eventuali bufale e così via. Ad esempio c'è la sezione Aiuto, mi si è bucato il cielo, che andrà a svelare se dei fenomeni come queste strane nuvole, ora vi faccio vedere alcune foto perché sono veramente impressionanti, sembrano dei fenomeni alieni o degli UFO, ma in realtà questo sito vi svelerà qual è la loro natura meteorologica, come si formano, che tipo di nuvole sono e così via. Altre sezioni interessanti, una che mi ha colpito particolarmente è questa, il corso per indagatori di misteri 2015, che apre le iscrizioni, non era mai la prima edizione, si ripete, sarà svolto a Torino, quindi se vi interessa andate a cercare qualche informazione e iscrivetevi. Dunque vi ricordo il sito che è il CICAP, è semplicissimo, www.ccap.org, andate a trovare qualche informazione e segnalateci quelle che vi colpiscono di più. Io vi saluto qui e vi do appuntamento alla prossima op.